Signori, ad ecco così uno scorcio di questo monolocale adibito quasi praticamente ad appartamento praticamente al posto di un B&B, insomma un appartamento con tutti i grismi e siamo ad Arnesano Lecce, che cosa non si fa per la musica? Cioè siamo arrivati fin qua con un viaggio lunghissimo, viaggio veramente lungo e adesso facciamo una panoramica appunto di veramente un posto grazioso un pollici non sono quanti, ci sono gli indici, i medi, gli anulari e un frigorifero simpaticissimo, rosso, una bellissima cucina tutto questo per venire a cantare domani la mia canzone Sweet numero 6 che veramente sta piacendo tanto e che è finita in finale per questa occasione è piaciuta moltissimo anche a Tropea questo è il numero 6 questo è il numero 6, in slang inglese, sweet sex ecco il giardino, a me questo posto riporto la Sicilia insomma 8 luglio, Arnesano Lecce, Palazzo Marchesale, Mulla in concert con Maristella Zappatore e Sharon Ramirez, due ballerine doc ecco